Ciao ragazzi, bentornati sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina. Devo fare una visura sulla targa dell'auto. Mi serve questo documento. Invece di andare in giro voglio provare a farlo online. Lo facciamo insieme? Ok. Allora, sono già su internet. Questo è il nostro sito Amici di Maggiolina. Premo sul più per andare in Google. Scrivo quello che mi serve. Visura. ACI. Devo fare una visura per la targa. Voglio farla col sito dell'ACI, possibilmente. Quindi vedo visura ACI per targa. Proviamo. Vediamo un po' cos'altro c'è. Questi sono annunci. Qui non si parla di ACI. Non è detto che non vadano bene per fare le visure. Anzi, ma io voglio proprio farlo sull'ACI. Anche qui c'è scritto ACI, ma il sito non riporta ACI. Quindi non è il sito dell'ACI. Eccolo qua, iservizi.aci.it. Nell'indirizzo c'è anche ACI. Questo mi dà fiducia che sia il sito ufficiale dell'ACI. Quindi Automobile Club d'Italia, visura e pra. Eccomi qua. Qui ci sono le istruzioni. Selezionando un qualsiasi istituto di credito che offre il servizio, è possibile pagare con carta di credito, carta di debito o prepagata Paypal, eccetera. Io utilizzerò Paypal, quindi direi che ci siamo. L'utilizzo del servizio comporta un costo pari a 6 euro. Probabilmente poi ci sarà l'IVA. Vediamo cosa succede. Va bene, dai, proviamo a farla. Dico inizia, autoveicolo, targa. Anagrafica richiedente. A questo punto metto il nome del proprietario dell'auto. Prima il cognome. Mi metto gli occhiali perché devo scrivere bene qui. Ok. Anche se chiunque potrebbe richiedere questa visura, io voglio che il documento sia intestato al proprietario dell'auto. Codice fiscale che devo andare a recuperare perché non ce l'ho sotto mano. Benissimo. Data di nascita. Non siamo una società, quindi non bariamo questa voce e dico continua. Recapiti del richiedente. Allora. E-mail. Confermiamo l'email. Indirizzo. Comune. Provincia. E cap. Ok. Continua. Bene. Ora andiamo nel sito dove si paga. che è il sito pago.pa. Pago per la pubblica amministrazione e si entra con lo speed. Entro con lo speed. Nel mio caso poste italiane. Ho già il telefono pronto. Vado ad aprire la solita applicazione poste ID per inquadrare il codice. Autorizza con codice. Inquadro il codice. Fatto. Impronta digitale per autorizzare. Fatto. Ora dovrebbe proseguire. Perfetto. Acconsento al trattamento dei dati personali. Accetto la privacy. Continuo. Come vuoi pagare? Altri metodi di pagamento. E io volevo Paypal. Commissione 1,50 euro. Quindi oltre al dovuto c'è 1,50 euro di commissione. Ho selezionato Paypal. Quindi pagherò in totale 7,50 euro. Riceverò l'esito. Quindi la ricevuta. La visura. A questo indirizzo. Va bene? Questo però dovrebbe essere l'esito della transazione. Quindi la ricevuta. Pago senza registrarmi. Pago senza registrarmi. Qui vengono verificati tutti i dati, a chi pago, eccetera. Devo dare il consenso qui e premere su Paga adesso. Vado a rimpicciolire l'altra schermata. Ok. Così vedo quello che sto registrando. Paga adesso. Password di Paypal. Accedo. Ora Paypal, nel mio caso, ha una doppia autenticazione, una doppia sicurezza. Quindi uso un'app di autenticazione. Dico continua. E ora vado a aprire sul telefono quell'applicazione che mi fornisce un codice. Questa è l'autenticazione a due passaggi. Ne abbiamo parlato altre volte. Ricopio il codice. È un codice che vale una volta sola. L'ho scritto male. Sì, infatti. È cambiato perché è passato il tempo. Allora. Lo riscriviamo. Ok. Avanti. Vale una volta sola questo codice. E ogni tot tempo cambia per una questione di sicurezza. Eccoci qua. Pronti a pagare. Pagherò col saldo Paypal. Continuo. E finalmente adesso dovrei aver finito. Ti stiamo reindirizzando su Pago.pa per completare l'acquisto. Benissimo. Vediamo cosa succede. Grazie. L'operazione è stata presa in carico. Riceverai l'esito. Va bene. Dico chiudi. L'esito della transazione di pagamento è in corso di verifica. Quindi da solo è tornato al sito dell'ACI. Qui vediamo Automobile Club d'Italia. E adesso attendiamo. L'attesa può protrarsi fino a due minuti. A seconda del tempo impiegato dal gestore del pagamento ad inviare i dati. Non chiudere il browser. Ed attendere l'esito della transazione. Eccoci qua. Ci siamo. Questa è la visura che posso andare a controllare. E direi che è tutto a posto. Salvo il PDF. Eccolo. Così siamo certi che mi arriva. E ora lo stampo. Intanto sul cellulare mi è arrivata la ricevuta dell'operazione. E stampo. Vediamo se riesco a stampare tutto. Scelgo la mia stampante. Dico stampa. Qui alle mie spalle c'è il pulsante stampa. E ora in teoria devo solo attendere che la mia stampante mi fornisca il pezzo di carta. Però io ho già il file in PDF pronto eventualmente da essere spedito in digitale. Cioè non ho neanche bisogno di averlo su carta. A tutti gli effetti. Bene ragazzi. Quindi siamo a posto. Abbiamo fatto tutto. Ecco. Attendiamo che arrivi la stampata. Ci siamo. La mia stampante sta facendo il rumore. Non so se lo sentite. Ed eccolo qua. Questa è la mia ricevuta con la visura Alpra per la situazione di questa auto. Ci vediamo presto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.